Il tremo regionale veloce 24-42, in Italia, proveniente da Piesce, Centrale e Direttiva, Venezia, Santa Lucia, il tremo regionale veloce 24-42, a Senniù, all'unità della Viglia Pianca, il tremo regionale veloce 24-42, in Italia, proveniente da Piesce, Centrale e Direttiva, Venezia, 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 il tremo regionale veloce 24-42, in Italia, proveniente da Piesce, Centrale e Direttiva, delle ore 14-29, è in arrivo al binario 2, attenzione, all'unità della Viglia Pianca, ferma in tutte le squadre. Il tremo regionale veloce 35-67, in Italia, proveniente da Venezia, Santa Lucia, è diretto a Piesce, Centrale, delle ore 14-07, è in arrivo al binario 3, attenzione, allontanarsi dalla Viglia Gialla, per Marco a Piesce, e per Montagone. Grazie. 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 Il treno regionale veloce 34-37 di Trenitalia, proveniente da Venezia-Santa Lucia e diretto a Trieste Centrale, delle ore 12.07, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Trieste Airport, Monfalcone. Il treno regionale veloce 38-07 di Trenitalia, proveniente da Udine e diretto a Trieste Centrale, delle ore 13.01, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Trieste Airport, Monfalcone. Attenzione! Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 16-6-2-2 di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale e diretto a Tavisio-Bosco Verde, delle ore 12.59, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Attenzione! Vietato attraversare i binari, servirsi del sottopassaggio, si rammenta che è vietato aprire le porte esterne dei treni e salire o scendere quando non sono completamente fermi. Il treno regionale 23-0-4-0 di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale e diretto a Porto Gruaro-Caurle, delle ore 12.18, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale veloce 34-40 di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale e diretto a Venezia-Santa Lucia, delle ore 12.53, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma San Giorgio di Nogaro, La Pisana-Lignano-Bipione, Porto Gruaro-Caurle, San Stino di Livenza, Sandonà di Piave, quarto d'Altino, Venezia-Mestre. Il treno di Trenitalia, 97-07, in Trenitalia, proveniente da Plano Centrale e diretto a Trieste Centrale, delle ore 12.26, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Trieste Airport, Montalcone. Carrosse dalla 1 alla 3, coda al treno, dalla 4 alla 5, centro treno, dalla 6 alla 8, verso treno. Attenzione! Treno in transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno in transito 5-8-4, di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale e diretto a Roma-Perni, delle ore 12.15, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Tisana, Lugnano-Biglione, Porto-Bluaro-Caorle, San Donato-Piame, Venezia-Mestre, Tadova, Terme-Ugame, Agano-Montegrotto, Romigo, Ferrara, Bologna Centrale, Prato Centrale, Firenze-Ripredi, Arezzo, Teronto-La Fortuna, Chiusi-Piaciano-Terme, Orgreso, Orte. Carrozza è dalla 1 alla 3, coda al treno, dalla 4 alla 5 centro, treno, dalla 6 alla 8 testo, treno. Grazie. 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 Grazie a tutti